Mini rivoluzione all'Aquila Rugby, ai nastri di partenza di una stagione in cui il sodalizio neroverde spegnerà 80 candeline. Nuovi tecnici, mix di giovani giocatori ed elementi di esperienza e inoltre una campagna abbonamenti che coinvolgerà non solo gli appassionati della palla ovale, ma anche l'intero territorio. Per la stagione 2015-2016 infatti l'Aquila Rugby Club offre ai tifosi e agli appassionati non un semplice abbonamento, ma un vero e proprio servizio, la carta abbonamento. Si tratta di una card che è d'accesso a sconti in diversi esercizi commerciali convenzionati della città. Con la carta abbonamento il club vuol consentire ai propri abbonati di trarre anche vantaggi economici, permettendo al tempo stesso di assistere a tutte le nuove partite interne del massimo campionato italiano di rugby, oltre che alle due gare del trofeo d'eccellenza. In questo modo l'abbonato può in breve tempo ammortizzare il costo della card. Abbiamo pensato una campagna abbonamenti che definiamo 80 voglia di rugby, che ha due significati. Uno, diciamo, importante perché è dal punto di vista regionale che si compie 80 anni di attività di rugby in Abruzzo. E la novità importante è che con quell'abbonamento si può accettere sia ai distinti che alle tribune in maniera indistinta. Sarà inoltre il protagonista di questa stagione per il prossimo ottobre il progetto L'Aquila Rinasce, le maglie bellezza, che lo scorso anno hanno visto gli atleti neroverdi scendere in campo con i monumenti e i simboli della città sulle maglie. Il successo dell'iniziativa ha spinto l'Aquila Rugby Club a confermare il progetto anche per la prossima stagione.